Ciao! Ma andate via che stai a mettero le sedie! Assisterete tra qualche istante c'è anche, ad eccessantemente, stavolendo oltre il numero per te luce d'anno ai che rio come il bello Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione